da venerdì 30 agosto a lunedì 9 settembre presso l'oratorio di san lorenzo di parabiago si terrà la tradizionale sagra di san lorenzo 11 giorni all'insegna del divertimento della musica dello sport dello stare insieme e soprattutto del buon cibo con un ristorante attivo su prenotazione che propone ogni sera un piatto tipico speciale il primo evento che dà il via alla festa sarà la corsa agra una gara podistica di 5 e 10 chilometri giunta alla decima edizione dopo il successo dello scorso anno viene riproposta anche la corsa baby dedicata ai più piccoli quest'anno le domeniche di intrattenimento inizieranno con il pranzo all'insegna della semplicità e della convivialità a seguire nel pomeriggio oltre a giochi per bambini spettacoli ed esibizioni trovano spazio gli obbisti e per la prima volta saranno presenti i vigili del fuoco con pompieropoli anche presentata una rievocazione medioevale per far scoprire come era san lorenzo tanti secoli fa il culmine della festa sarà lo strabiliante spettacolo pirotecnico domenica 8 settembre tutte le info sulle pagine facebook e instagram sagra di san lorenzo